Buongiorno, oggi abbiamo il piacere di presentare il dottor Ivan Castellan che è Branch Manager di Risco Group. Sappiamo che è un'azienda leader nel mercato globale della sicurezza. Ci vuole raccontare qualcosa di più? Sì, volentieri. Risco è stata fondata fin anni 70, è un'azienda israeliana, da allora ricerca e sviluppo è in Israele, la produzione è in Israele e dalla piccola azienda, dalla fondazione, oggi è una multinazionale presente in tutti i paesi con filiali propri o con partnership con importanti società locali. In Europa, dove siamo più vicino noi, c'è la filiale italiana, quella che dirigo io, ma abbiamo la filiale in Spagna, in Francia, in Belgio, l'abbiamo anche in Inghilterra, anche se non è più Europa, ma insomma c'è la filiale anche in Inghilterra. Quindi ecco, Risco dal momento della propria fondazione si occupa di sviluppare soluzioni per professionisti che poi in prima persona propone e supporta in tutto il mondo, quindi con un'attenzione specifica alle esigenze del mercato professionale. Certo, quindi il vostro target di clientela sono fondamentalmente i professionisti del mondo della sicurezza? Questo dal momento della propria fondazione Risco si è da sempre dedicata a sviluppare soluzioni professionali che vengono certificate agli più alti standard esistenti e pertinenti a quello che è l'attività e in ogni paese in cui vendiamo. Ad esempio in Europa abbiamo le EN, ma le AFNOR in Francia, le VDS per quanto riguarda la Germania, quindi gli IMQ utilizziamo anche in Italia per quanto concerne la certificazione sempre sulle basi delle EN. Quindi, ma questo vale anche per le applicazioni software. La nostra applicazione cloud è certificata ISO 27001, l'app che utilizziamo per i nostri clienti ha tutte le certificazioni del caso. Anche la nostra applicazione è su uno dei cloud più certificati, in questo caso noi ci riferiamo a Microsoft Azure, quindi dà sempre rischio in mente le esigenze del professionista, fa e sviluppa le proprie soluzioni ai più alti standard esistenti e fa certificare con tutte le certificazioni pertinenti e questo è il nostro modo di interpretare la nostra attività insomma. Certo. Avete immagino dei progetti insomma per il futuro? Assolutamente sì. Ad oggi Risco già offre un ecosistema assolutamente completo, da sempre noi facciamo sensoristica professionale, cui poi abbiamo successivamente affiancato degli ottimi sistemi, abbiamo successivamente affiancato videoverifica, smart home e queste sono cose che sono in essere, ma per quanto riguarda l'immediato futuro abbiamo intercettato le esigenze del mercato e delle soluzioni professionali senza fili e la possibilità di rendere più intelligente le abitazioni, gli uffici, le industrie. Quindi abbiamo due progetti molto importanti che a brevissimo verranno presentati. Uno riguarda un nostro nuovo sistema radio, il cui nome è già definito, l'ICSER, che siamo certi saprà ritagliarsi una quota di interesse importante che nel mercato italiano per via dalla propria potenza, flessibilità e di tutti i servizi che metterà a disposizione, e poi appunto l'estensione di quello che è la soluzione smart home attraverso protocolli radio Z-Wave, dove già oggi abbiamo una selezione di prodotti, ma si stanno estendendo sempre di più, questo appunto per dare modo di rendere gli edifici intelligenti e sicuri nello stesso momento. E poi da sempre contiamo alla formazione. Abbiamo esordito anni fa con un portale specializzato nella formazione che sta per vedere a luce nella nuova veste. Abbiamo lavorato ultimamente per renderlo molto più performante, quindi a breve tornerà a essere disponibile quella che noi chiamiamo RISCO University per affiancare l'attività di formazione che facciamo in tutta Italia, insieme ai nostri partner, distributori ufficiali, in modo tale da poi dare anche una formazione on-demand fruibile attraverso il nostro portale per dare un miglior servizio possibile agli installatori professionisti presenti sul territorio nazionale. Certo, un supporto a 360 gradi, insomma. Bene, allora vi auguriamo i migliori successi e la ringrazio per la sua disponibilità e a presto. Grazie, buon lavoro a tutti. Arrivederci.